Ci sono un sacco di novità sul canale e per questo motivo mi sono seduto anch'io per raccontarvele con comodo. Davvero sono tantissime. Alcune ve le annunciate velatamente, qualcun'altra un po' più esplicitamente, ma ora è davvero il momento di fare ordine e raccontare a voi che mi seguite cosa succede e succederà qui sul canale. Sarà una specie di vadenecum di cosa troverete, ma soprattutto i vantaggi che avrete nel vedere questi video e seguire questo canale. Quindi restate fino alla fine per sapere come potete risparmiare sui vostri acquisti padelistici e non solo. Sarà un video schematico diviso in capitoli di modo che possiate vederlo tutto la prima volta e poi andare direttamente ai capitoli che vi interessano se volete rivedere alcuni passaggi. Spero di farvi cosa gradita e fatemi sapere nei commenti se vi è stata utile come funziona. Partiamo dalla parte video, mera, classica. Sul canale troverete sempre più recensioni di racchette e attrezzature da padel in generale perché voglio portarvi le mie esperienze ma soprattutto mettervi nelle migliori condizioni per poter scegliere la racchetta adatta a voi senza dover spendere una fortuna oppure fare l'investimento sbagliato. Per questo investo molto del canale nella possibilità di provare più materiale possibile e spero in futuro di potervi dare ne ancora di più su cui scegliere o semplicemente saperne di più. Per questo ho voluto aprire la possibilità a chiunque volesse senza alcun tipo di obbligo tramite il mio indirezzo PayPal che trovate qui in descrizione di contribuire tramite un crowdfunding. Chiunque voglia contribuire alla crescita di questo canale può farlo donando al link che trovo in descrizione senza obblighi minimi, senza obblighi massimi ovviamente. Chiunque voglia dire grazie in maniera attiva per aver comprato una pala o per aver evitato una suola può farlo direttamente sull'account PayPal e poi diventando tra virgolette azionisti può anche chiedere di avere qualcosa sul canale. Ci saranno oltre alle recensioni anche dei video che riguarderanno il World Paddle Tour o il Premier Paddle dove parleremo dei giocatori, delle copie più importanti, di qualche storia particolare che riguarda il circuito pro cose di questo tipo. Oltre ovviamente a tutte le live post-torneo che faremo sempre qui io ed Emiliano Carcchia di Paddle Review dove analizzeremo torneo maschile, torneo femminile con tutte le curiosità e le valutazioni. La collaborazione con Paddle Review va oltre questo, infatti date un occhio al format Pala in un minuto che va sul profilo Instagram di Paddle Review perché anche quello è un lavoro che facciamo in collaborazione e un unico nel panorama quadrilistico. Inoltre c'è come sempre attiva la chat telegram chiamata Paddle Chat che trovate nella barra della ricerca con la bandierina italiana, facilissimo, dove potete confrontarvi e discutere già con quasi 400 altri appassionati. Anche qui trovate il link in descrizione. L'ultima nostra collaborazione è Paddle Podcast, ovvero un podcast sul Paddle che potete trovare su Spotify e al link in descrizione. Per ora è su Spotify, Spreaker e Google Podcast ma prestissimo arriverà anche su Apple Podcast perché l'arburocrazia è un filino più ostica. Al momento è la semplice trasposizione in audio delle nostre live sul World Paddle Tour qui sul canale ma presto verrà integrato con altri contenuti molto intelliganti. Abbiamo idee davvero molto fighe da fare e le realizzerremo, statene certi. Ma ora viene il vostro momento, quello che per davvero può farvi risparmiare sugli acquisti. Ho avviato una collaborazione infatti con il portale Sportnet per quanto riguarda il Paddle. Nei miei video vi parlerò di materiale che troverete all'interno del sito o anche all'interno del sito e se vorrete acquistare una racchetta, delle palline, dei vestiti o qualsiasi altra cosa del catalogo anche di altri sport tramite il mio link di affiliazione riceverete subito un 10% di sconto sul carrello. Ma cosa significa il link di affiliazione? Senza farla troppo lunga, un creator come me ha un link identificativo che condivide con il suo pubblico. Chiunque ci entri viene associato a quel link e nel momento in cui completa un acquisto gode automaticamente dello sconto dedicato a quel creator. Da una parte l'utente risparmia sull'acquisto, dall'altra con il suo carrello, la sua spesa regala una percentuale di questo acquisto stesso al creator. Per questo se dovrete acquistare una palla o qualsiasi cosa da padel, ma anche running, sci, volley, tennis, quello che c'è all'interno del catalogo, vi invito a farlo da questo portale e soprattutto da questo link, se il prezzo è conveniente e molto spesso potrebbe essere il migliore che troverete, per risparmiare e aiutare anche il canale Apple Show. Oltre al link c'è anche il codice coupon, lo trovate sempre in descrizione. Se non avete modo di mandare il link potete condividere con un vostro amico, parente, cugino, eccetera, questo coupon che permetterà, inserito prima del checkout, di ricevere lo stesso sconto del link, nulla di diverso. Infine continuerò ad inserire anche periodicamente dei video di tecnologia, perché è l'altra mia passione e l'altro tema del canale. Vi parlerò anche in questo caso solo di oggetti che ho provato, che magari possano esservi utili sia per il padel che per il resto della vostra vita, del vostro comfort, del vostro pagamento personale tech. Il padel sarà sempre il tema principale del canale, ma se troverete dei video tecnologici è perché voglio fermamente proseguire anche questo filone, perché sarà di certo parte integrante del canale in futuro. Per questo, chiunque abbia un'attività dei negozi o sia un brand che vuole promuovere, i propri prodotti, può contattarmi per ogni proposta all'indirizzo mail che trovate in descrizione. Per onestà, come sapete, per chi mi segue da un po' voglio legarmi solo a brand e a prodotti in cui credo e so che possono apportare un valore aggiunto al canale e ovviamente a chi lo guarda. Se avete amici, conoscenti che lavorano nel tech, producono prodotti e vogliono diffonderli, indirizzate la mia mail e magari potreste vederli proprio qui nel canale molto presto. Come da titolo, se vi piace il canale, iscrivetevi, attivate la campanella e mettete un bel like per far sapere a tutti che esiste e diffondere ovviamente tra amici e parenti. Seguitemi anche sul profilo Instagram perché lì vi metto un po' di cosina interessanti come unboxing, spoiler di nuove recensioni, per essere sempre così un passo avanti agli altri. Posso dire che se siete arrivati in fondo a questo video siete veramente dei follower di fiducia e per questo vi ringrazio e spero, ma cercherò di assicurarvelo, di ripagarvi con tanti bellissimi video e iniziative che arriveranno nel prossimo futuro. Per questo vi ringrazio ancora e ci vediamo prestissimo qui su Simone Mazzola, Padre del Tech. Ciao! 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 Grazie a tutti.